beautiful settimana 4 10 gennaio 2021 anticipazioni americane nei prossimi episodi della soppa americana ridge si scatena su brooke hop e liam giurando loro che non riusciranno mai a portarsi via il figlio di thomas così thomas ridge e douglas si trasferiscono da eric e queen portando 4 generazioni di forrester uomini sotto lo stesso tetto ridge si confida con il padre sullo stato attuale del suo matrimonio mentre brooke condivide con donna di aver restituito a ridge il suo anello ridge poi paragona i comportamenti di brooke nei confronti di thomas a quelli di stephanie verso di brooke più tardi assistiamo a un momento di grande passione per ridge e shauna i quali si scambiano un improvviso e caloroso bacio intanto thomas ammette di amare ancora hop la quale confessa alla madre di avere intenzione di giocare sull'ossessione di thomas per metterla a suo favore riuscirà in questo modo a convincerlo a firmare i documenti per l'adozione di douglas nel frattempo si avvicina la notte di halloween e mentre queen ed eric festeggiano la festa con la famiglia e gli amici sua re shauna ricorda ridge ancora sposato il bacio che hanno condiviso di recente intanto liam prende il suo e la bambina di hop bet per condividere la notte di halloween con la sua ex moglie steffy hop invece si precipita a casa di thomas per convincerlo a firmare i documenti sulla custodia del figlio cosa accadrà tra i due rimasti di nuovo soli nel frattempo scrivici con i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video non dimenticare di iscriverti al nostro canale addio